Oggi giocheremo a Panic che se non sapete di che cosa si tratta vi trovate in un supermercato e voi dovete prendere dei cibi che vi dicono gli scanner che sono sparsi nel gioco però ovviamente non devi farti prendere da questo robot che si chiama Happy e se ti fai prendere i cibi in mano te ne fa prendere te ne fa perdere uno e credo che devo aver detto tutto ah no si anche che puoi farti spingere dagli altri giocatori e rubare gli oggetti allora dobbiamo prendere il primo scanner tu l'hai trovato allora ananas salsicce e patate e patatine allora dimmi se trovi le patatine e le altre cose io non so cosa devi trovare tu allora poco porno io le ho già visti forse non lo so allora poco porno e la tua roba non so cosa sia c'è scritto spero che non mi prendi perché comunque c'è vabbè così dice è ok ne ho preso uno qual'era l'altro non mi ricordo allora sono nel supermercato aspetta te ne prendo e dopo te ne lascio o sennò li rubi dagli altri allora l'ananas che sta qua ok a me manca solo le patatine sempre se le trovo io ho preso tutte le patatine perché proprio quelle ok trovate ora devi andare nello scanner dove hai preso ok completato trovare gli altri due scanner l'hai preso dove c'è la frutta che cosa ecco l'ho trovato vai io ho fatto no ce l'ho davanti carta igienica cereali carta igienica cereali aspetta che ce l'ho dietro perché io dove sei ho trovato la carta igienica adesso te la prendo cosa devi prendere la carta igienica unicarno tipo unicorno una scatola rosa l'ho trovati no è la pasta io che vuoi spingere la gente ma non si possono me sping no chi è stato stai inseguendo io non trovo i pop i cereali il sapone eccolo sempre se no ce l'ho dietro ah no ho perso un oggetto che bello il sapone eccolo no 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 l'ho perso io ho una vita no io ce l'ho dietro e ho una vita no io sia trovato il sapone sia la carta igienica però ora manca non venire da me no 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 allora dovevamo trovare i cereali io devo solo eccoli i cereali fammeli prendere no dai a me oh se li trovi eccoli dove c'è oh allora allora eccoli tieni uno vai tieni ehi che è tipo una cosa gialla il sapone ce l'ho e dai aspetta che ne trovo un altro e no non l'ho trovato eccolo ne ho trovato uno vieni dove sei vabbè comunque ce ne sta uno qui vabbè io vado ciao dove sei sapone eccolo trovate tutto anch'io non lo so manco io eccoti ti spi ora dobbiamo trovare l'ultimo dov'è per me sta nella frutta no il livello no non è giusto sono morta di sicuro ho avuto una fortuna io ho avuto una fortuna ma io ho tre vite io ho una l'ho trovato tu prendi pop corn pizza yogurt pizza dov'è pizza eccola yogurt ok manca solo i pop corn e io scappo ciao me ne vado oh no mi aspetti bella mia ho solo una di vita no dai ma chi è che mi ha fatto fatto perdere un coso no grazie prego ti voglio tanto bene così che mi fai morire allora yogurt pop ho trovato i pop corn mai dietro di me ma ancora no no ok sono morta di sicuro no vabbè ti aiuto ah no sono ancora viva ok mi mancano solo le patatine patatine non erano un po' corn non erano un po' corn come se ma non è vero sono morta no vabbè ti aiuto ecco ti allora le patatine vai e ora vince vai allora è stato molto difficile questa cosa mmm c'è tu mi hai fatto pure morire ho vinto forse hai vinto troppo forte vabbè questo video si conclude qua sette minuti cosa sette minuti per finirlo anche io comunque adesso concludiamo questo video ciao ciao go ciao ciao no no Grazie.